mi hanno beccato ragazzi ma come avranno fatto forse ho capito hanno sicuramente installato cave la sicurezza di casa vostra a portata di smartphone bene ragazzi andiamo a scoprire cosa c'è dentro lo starting kit di cave allora innanzitutto partiamo con il dire che bejo è un brand londinese che è appena prodato nel nostro store quindi comunque sono prodotti che abbiamo appena introdotto come voi sapete noi siamo in continuo scouting e anche questa volta abbiamo trovato un brand sicuramente affidabile all'interno della confezione come vedete abbiamo il manuale di istruzioni multilingue la smart hub che ci permette di connettere tutti i device per appunto avere la sicurezza in casa a portata di smartphone il cavo ethernet da un metro il sensore di contatto il telecomando e anche il sensore di movimento wireless oltre ovviamente all'alimentatore e a tutta quella che è la parte di installazione di questi supporti partiamo con il dire che la smart hub che vedete qui è connettibile sia cablata quindi con il line sia in wireless e quindi tramite il wifi o anche con la rete mobile quindi ha un inserimento per la sim che vi permette quindi di poterla connettere in qualsiasi modo voi vogliate anche gli accessori sono facilmente connettibili perché oltre a quelli che sono usciti ve ne sono circa 99 che possono appunto essere connessi a questa hub tramite qr code quindi la meccanica di associazione dei prodotti è veramente molto immediata è veramente facile tramite l'app voi potete settare e temporarizzare le attività della vostra smart home e quindi fondamentalmente decidere quali sono le fasce orarie magari in cui tenere attivo l'allarme quali invece non tenerlo attivo ovviamente da webidoo abbiamo già un accessorio aggiuntivo che possiamo proporvi ed è per questo che vi prendo la fantastica telecamera che è una classica telecamera per controllare diciamo il vostro appartamento ed è connettibile perfettamente alla smart hub dunque ragazzi non vi resta che andare sul nostro sito www.webidoo.store e scoprire di più su questo nuovo e fantastico device grazie